New Farmers, un viaggio tra i nuovi agricoltori, dai più bei parchi e dalle zone rurali più fertili. 12 imprenditori raccontano l'agricoltura italiana e le sue eccellenze, con un occhio attento alle sfide della sostenibilità e alla corretta alimentazione. Condotto da Francesca Magnoni, in onda su Icaro TV ogni domenica alle 12.10 e in replica il mercoledì alle 19.35. Grazie a tutti.